ciao a tutti ragazzi io sono davide benvenuti nel mio canale youtube e oggi parliamo di prop wash prop wash non è una parolaccia né un virus che attacca i nostri droni ma è un qualcosa sulla quale prima o poi tutti quanti noi ci sbattiamo la testa o quantomeno gli stick in questo video oltre che a cercare di spiegare cosa consiste il prop wash cercherò anche di darvi qualche consiglio su come evitarlo e attenzione ho detto evitarlo non eliminarlo e adesso capirete perché per far questo però ho bisogno di un drone tutti quanti voi sapete ovviamente che il drone per volare deve ruotare velocemente le eliche e così facendo viene prodotto un flusso di aria che va velocemente verso il basso e sostiene il drone e gli consente di muoversi nelle varie angolazioni se il drone ha dei movimenti lineari e quindi procede sempre davanti a sé e si tiene alle spalle questi quattro turbini di aria vorticosa prodotti dai motori e dalle eliche il flight controller riesce tranquillamente a gestire tutte le vibrazioni in entrata e a capire bene l'assetto del drone nello spazio ma attenzione attenzione se il drone entra nei suoi stessi turbini d'aria quindi immaginate che qui c'è un turbine d'aria quindi il drone gli entra dentro il giroscopio si trova in una situazione di continuo mutamento perché il turbine d'aria scuote in continuazione il drone e il numero dei micromovimenti che arrivano al giro sono così innumerevoli che il flight controller ha difficoltà a stabilizzare il drone e a gestire questi continui cambiamenti ed eccolo lì che può incorrere in movimenti di questo tipo questa tipologia di vibrazione è il cosiddetto prop wash se il nostro flight controller è sottoposto a pochi cambiamenti dovuti a fenomeni esterni è in grado di gestire la sua stabilizzazione il suo movimento in modo perfetto se invece io entro all'interno dei turbini d'aria prodotti dai quattro motori ho un numero elevato di agenti esterni che non fanno altro che smuovere il mio drone da una parte e dall'altra e il flight controller non riesce a gestire queste innumerevoli variazioni dell'assetto del drone nello spazio e quindi inizia a fare movimenti di questo tipo perché non riesce a comandare in modo equilibrato l'output di tutti e quattro i motori e quindi non riesce a tenere bene l'assetto immaginatevi che inizia ad urlare a questo motore dai dai gas no basta adesso dai gas tu no fermo spingi tu no fermo dai adesso dai di nuovo tu adesso tocca a te no a te e quindi non ci capisce nulla vibra in questo modo particolare e questa cosa non ci piace perché questo pro posh è considerato in modo negativo da tutti quanti i piloti perché per i piloti freestyle ovviamente può rovinare la qualità del video perché io sto registrando con la mia action cam in alta definizione se il drone inizia a fare movimenti di questo tipo il video traballerà e quindi va a rovinare quello effetto smooth che rende i video piacevoli per il racing se io vado a effettuare una curva molto veloce e soffro di prop wash vado comunque a inficiare la mia partenza perché invece di partire velocemente questa piccola vibrazione mi va a togliere millesimi di secondi che sono preziosi per i tempi finali di gara devo dire la verità che mentre circa due o tre anni fa i firmware non erano in grado di gestire in maniera ottimale il fenomeno del prop wash incorrevamo in vibrazioni di questo tipo che erano anche molto molto evidenti con il passare del tempo l'avanzare della tecnologia e l'ottimizzazione degli algoritmi questo fenomeno si è molto 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 ridotto tant'è per farvi vedere un esempio evidente di prop wash con beta flight 4.2 ho dovuto veramente ridurre al minimo i vid nel video che state vedendo sto cercando di provocare appositamente del prop wash quindi che faccio vado avanti velocemente mi giro sempre rapidamente ridò gas quindi rientro dentro il flusso di aria prodotto dai miei quattro motori ed eccolo lì che genero il fenomeno del prop wash che come vedete non è proprio tantissimo evidente ascoltatemi bene per evitare il prop wash il modo migliore è quello di affinare il proprio stile di guida cioè che cosa intendo dovete cercare di far scorrere sempre in avanti il vostro tono e quindi evitare quei veloci cambiamenti di direzioni che a volte sono molto stretti e che quindi vi fanno entrare nel vostro stesso flusso d'aria ad esempio se stiamo effettuando un dive non farò mai un movimento di questo tipo roteando in questo modo eccolo lì che qui ci sono i miei quattro turbini d'aria vado ad entrare velocemente dentro i miei stessi flussi e quindi corro in vibrazione che cosa devo fare che se sto effettuando un dive devo andare ad aumentare il gas piano piano in modo tale che inizio a creare un certo thrust qui sotto il drone invece di cascare direttamente dentro il proprio flusso d'aria ne esce indenne mano a mano effettua questa curva qui evitiamo il prop wash stessa cosa ad esempio nello split s dove il nostro drone va in aria ruota su se stesso di 180 gradi dopo di che cade quindi effettua questa curva se sbaglio e vado subito a correggere in questo modo con il mio pitch rischio di entrare sempre nel mio flusso d'aria prodotto dai quattro motori e genero il prop wash se invece ho una curva bella tonda e ampia eccolo lì che qui inizio già a dare del gas piano piano aumento il drone esce fuori dal suo flusso d'aria e esce indenne senza fenomeni di prop wash stessa cosa in un power loop se effetto un power loop quindi un giro della morte su me stesso anche qui non ho problemi all'inizio del trick ma quando vado a cadere su me stesso se qui vado sempre a correggere velocemente di pitch entro sempre nei miei turbini d'aria e genero il prop wash se invece scendo do gas in modo lineare piano piano i miei motori iniziano a spingere effetto una curva bella ampia il drone esce fuori senza fenomeni anche qui di prop wash se un pilota ha un corretto stile di guida anche con dei pid bassi è in grado di evitare il prop wash il fenomeno del prop wash poi può essere ulteriormente ridotto mediante un adeguato tuning se non l'avete visto andate a vedervi subito il mio video dedicato al tuning mediante gli slider di betaflight che vi lascio in descrizione qui sotto in questo video spiego che con un'opportuna regolazione dell'equilibrio che c'è tra la nostra p e la nostra d siamo in grado di minimizzare questo fenomeno drone con un perfetto tuning ci aiuta quando andiamo a fare dei trick abbastanza spinti con dei veloci e dei repentini cambiamenti di trotto ci aiuta a gestire il fenomeno del prop wash un altro consiglio che vi do è quello di allenarvi nella gestione del gas questo è molto importante perché ad esempio se sto andando velocemente e mi giro ok quindi entro dentro il mio turbine d'aria e do subito gas flight controller subisce in modo importante questo grandissimo dinamismo prodotto dall'aria che si muove e non riesce a stabilizzare bene al drone in base ai movimenti dei nostri stick subisce il fenomeno del prop wash ma se io faccio lo stesso movimento mi giro invece di dare subito trotto al subito gas al 100% inizio a dare gas in modo lineare che succede soprattutto con gli ultimi firmware il flight controller è in grado di gestire queste turbolenze che non aumentano in modo spaventoso ma aumentano in modo lineare e quindi molto probabilmente riuscirò ad evitare il prop wash anche andando dentro il mio stesso flusso d'aria lavorate 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 su queste due cosettine che vi ho detto la prima cercate sempre di non entrare nel vostro stesso flusso d'aria quindi di avere queste linee queste curve molto grandi la seconda cosa è quella di allenarvi nella gestione del gas quindi se volete effettuare dei trick spinti entrare comunque nel vostro flusso d'aria dovete imparare a dosare in modo adeguato il throttle con un drone che ha un perfetto pid tuning sono in grado di spingermi di più in trick più aggressivi perché il mio flight controller è in grado di gestire molto meglio i movimenti nello spazio e quindi di intervenire rapidamente e correggere quelle vibrazioni che possono disturbarne il volo adesso che finalmente conoscete che cos'è il prop wash e quindi non avete più scuse posso andare a realizzare più serenamente dei video espressamente dedicati al tuning mi raccomando ragazzi iscrivetevi al mio canale qui in basso mettetemi un like e soprattutto fatemi sapere se avete problemi nel gestire questo dannato prop wash che ci affligge così tanto grazie a tutti grazie a tutti